Ha avuto un triste epilogo la scomparsa di Marco Truffi, 44enne originario di Vallefoglia trasferitosi all'estero da diverso tempo, per il quale la famiglia aveva denunciato la scomparsa, rivolgendosi anche alla trasmissione di Rai 3 chi l'ha visto. L'uomo è morto negli ultimi mesi del 2019 e la notifica del decesso era stata inviata circa un anno fa prima alle comune di Urbino e poi a quello di Vallefoglia. Di quanto scoperto dall'ufficio anagrafe di Vallefoglia, però, pare non fosse a conoscenza la famiglia della vittima, che dopo gli appelli alle ricerche ha dunque ricevuto la tragica inattesa notizia. Poco chiara ancora la dinamica dei fatti che avrebbe portato all'omesso avviso dei parenti. Il problema potrebbe risalire alla mancata comunicazione nei confronti dei familiari da parte delle consolato, ma per avere certezza e per approfondire sia le cause del tragico disuito, sia il ritardo con cui l'avviso di morte è sopraggiunto ai due comuni rispetto alla data del decesso, ci sarà bisogno ancora di tempo, come affermato anche dalle sindaco di Vallefoglia, Palmiero Ucchielli. Intanto è un dolore per l'intera comunità, non solo per la famiglia. Il consolato aveva comunicato al comune di Urbino, essendo lui nativo di Urbino, diciamo dopo sei mesi della morte, perché la morte risale al settembre 2019, comunicò febbraio, cinque o sei mesi dopo della morte. Ovviamente comunicandolo al comune di Urbino, al comune di Urbino a noi, si dava certamente per scontato che la prima cosa che il consolato abbia comunicato, non si capisce se l'ha comunicato, ma pensiamo di sì, alla famiglia e poi ai comuni. Le reazioni sono state della famiglia, della sorella, perché la madre ha perso anche il marito, quindi il padre era già morto da diversi anni, di incredulità, perché sulla base di questa verifica che io ho fatto fare all'anagrafe è il risultato appunto che era defunto. Io gli ho detto guarda che a noi risulta così, ma dice a noi non c'è detto niente a nessuno, non so cosa è successo, se il consolato l'ha comunicato alla madre e poi la madre non l'ha... non lo sappiamo, questo è tutto da verificare, adesso stanno vedendo come fare per eventualmente riportare la salma, perché devono dire ad Hannover dove è sepolto e come fare, si sta interessando la famiglia per vedere se è possibile riportarlo, diciamo, nei cimiteri nostri della città di Vallefoglia, credo, comunque deciderà la famiglia dove.